Chi di voi almeno una volta non ha mangiato questa meravigliosa crema spalmabile? Ciao, oggi vediamo insieme come fare questa crema spalmabile alle nocciole e cioccolato. Gli ingredienti sono 100 g di nocciole, 100 g di cioccolato fondente, 100 g di bevanda di soia, 30 ml di olio di semi e 50 fino a 100 g di zucchero. Mettiamo la bevanda di soia in un pentolino e la lasciamo scaldare a fuoco basso. In una padella a parte mettiamo le nocciole e le facciamo scaldare anch'esse a fuoco molto basso. Nel frattempo in un mixer abbastanza potente mettiamo il nostro zucchero di canna e lo frulliamo per bene fino a farlo diventare una polvere sottile, zucchero a velo. Lo zucchero di canna si può sostituire tranquillamente con lo zucchero bianco. La mettiamo a sciogliere il cioccolato. Quindi nel latte che si è appena si è pedito mettiamo il cioccolato fondente, vi ricordo 100 g, e lo lasciamo sciogliere mentre le nocciole le mandiamo a fuoco basso fino a che si tostano e ce ne accorgiamo quando viene su quel profumino tipico della nocciola tostata. Aggiungiamo al latte e cioccolato i 30 g di olio di semi e mescoliamo per bene fino a che il cioccolato non si sia completamente sciolto. Anche qui il fuoco vi consiglio di metterlo basso. Ci vorranno pochissimi minuti e nel frattempo anche le nocciole si saranno tostate. Quindi strofinando le nocciole tra le dita la pollicina si toglierà. Quindi togliamo la pellicina a tutte le nocciole facendo attenzione ovviamente che scottano. Bene, quando ho spellato tutte le mie nocciole, come vedete non deve essere proprio un lavoro preciso, le aggiungo al mixer con lo zucchero e le faccio frullare. Facciamo attenzione a frullare ad intermittenza, cioè non frulliamo di continuo perché comunque ci vorrà tanto tempo, alcuni minuti, per cui il mixer si potrebbe surriscaldare. Ogni tanto sistemiamo il composto per far frullare meglio il tutto. Mano a mano che frulliamo le nocciole diventano dapprima polvere e poi raggiungono questa consistenza, cioè stanno tirando fuori tutto il loro olio. Quindi a questo punto aggiungiamo metà del cioccolato che abbiamo fuso. Pugliamo ancora appena appena un minutino e poi aggiungiamo anche l'altra metà del composto. Questa piccola palettina mi aiuta a pulire tutti i bordi del mixer per recuperare tutte le nocciole che vanno, come vedete, sul coperchio o intorno al mixer. Così siamo sicuri di non sprecare neanche un grammo di prodotto. Ecco qui, aggiungiamo l'altra metà del cioccolato e continuiamo a frullare per qualche secondo, giusto il tempo di amalgamare il tutto per bene. Eccola qui, è pronta la nostra crema di nocciole spalmabile. Ora cambio inquadratura e vi faccio vedere che meraviglia. Calcolate che quando il composto sarà freddato sarà ancora più denso e cremoso. Questa crema spalmabile non ha bisogno di commenti, la conosciamo tutti e la utilizziamo in mille modi, sia per fare merenda, colazione, c'è anche qualche colosetto che lo mangia direttamente con il cucchiaio dal barattolo, oppure si può usare per farcire creme per dolci, eccetera, eccetera. E siccome domani è San Valentino potrebbe anche essere una bellissima idea regalo. Che ne pensate? Grazie per aver guardato il video, spero che vi sia utile e che vi sia piaciuto. Lasciatemi detto nei commenti qual è la vostra impressione, se già facevate una crema di nocciole e qual è la vostra ricetta. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdere le prossime ricette. Ciao, alla prossima ricettina! Grazie per aver guardato il video, spero che vi sia piaciuto.